Semaforo verde per gli ordini nelle concessionarie italiane della nuova Abarth 124 Spider, con prezzi da 40.000 euro per la versione con cambio manuale e da 42.000 per la versione con cambio automatico a doppia frizione. L'offerta di lancio prevede 299 euro al mese con prima rata dopo sei mesi. Le prime 2.500 unità prodotte a livello mondiale saranno inoltre caratterizzate da una targhetta numerata apposta presso le officine A. Opel si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia di successo delle due station wagon. La nuova Astra Sports Tourer cavalcherà l'onda della tradizione Opel in questo segmento con l'idea di diffondere innovazioni provenienti da segmenti superiori, abbinandole ad un design espressivo e dinamico. Opel Astra Sports Tourer arricchisce la categoria delle vetture compatte all'insegna del downsizing del peso, di un abitacolo ancora più spazioso a fronte di dimensioni esterne praticamente invariate e di motori di nuova generazione sempre più efficienti. La variante station wagon della Astra ha da poco fatto il suo esordio nei principali mercati europei, con prezzi a partire da 18.600 euro della 1.4 benzina da 100 cavalli. A livello di eco-sostenibilità si distingue però la variante con motore tre cilindri turbo ad iniezione diretta da 105 cavalli che contiene i consumi fino a 4,3 litri ogni 100 chilometri e limita l'emissione di CO2 a 100 grammi al chilometro. La nuova Astra Sports Tourer è all'avanguardia anche per le pluripremiate tecnologie di illuminazione, i sistemi per l'assistenza alla guida e il massimo comfort a bordo. A domani per altre news.